e oggi il segnale tecnico importante viene dall'oro che rompe al rialzo la trend line ribassista che durava in pratica dal mese di maggio duemilaventitré stiamo parlando di questa trend line rompe al rialzo il wedge cuneo e che lo aveva trattenuto sulla media 200 prima della rottura al ribasso del 27 settembre rottura che è stata annullata poi con il rally degli ultimi giorni sull'onda della delle nuove tensioni geopolitiche e oggi brecca al rialzo appunto con un segnale bullish riportandosi di nuovo sopra la media 200 sopra tutti questi valori di resistenza quindi vediamo se sarà confermato domani il target di questo movimento già solo proiettando verso l'alto il failure che c'è stato qui a mille otto e undici cosa vuol dire il failure che eh appunto il target raggiunto qui che era una vecchia eh fascia di supporto no non è non ha avuto la prosecuzione attesa quindi proiettando verso l'alto il eh movimento da mille nove dieci mille otto e dieci sono circa cento punti quindi andiamo a duemila dieci come target tecnico naturale di questo movimento ecco fatto salvo il rientro perché poi bisogna sempre fare piano B quindi qualora si dovesse rientrare sotto la trend line nei prossimi giorni questo scenario rialzista verrebbe negato ricordo sempre che si parla in termini probabilistici segnali certi non ce ne sono e quindi sempre molta attenzione molta prudenza qui si parla di analisi tecnica non di eh previsioni e allora un attimo togliamo l'evidenziatore per ripulire il disegno ecco possiamo togliere anche il vecchio cuneo anche se teniamo le teniamo presente perché poi queste figure di consolidamento che avevano fatto da supporto poi fanno la resistenza quindi il superamento rialzo è importante anche in quel senso il rialzo dell'oro sta avvenendo nonostante i rendimenti continuino ad arrampicarsi verso l'alto siamo andati a sfiorare proprio per pochi tic il 5% di rendimento sul decennale e quindi non è escluso che ci si possa arrivare nelle prossime ore siamo ancora nella coda della fase parabolica di cui avevamo parlato tempo fa che aveva manifestato un top tecnico anche qui ne avevamo segnalato in un video ma la correzione è stata veramente breve solo di qualche giorno e poi sull'onda dei dati macroeconomici in particolare ieri le vendite al dettaglio e il diciamo c'è stata questa nuova coda questa nuova impennata quindi la formazione eventuale di un top qui sarà complessa e durerà ancora qualche giorno si cominciano a formare le prime divergenze perché oggi siamo andati a fare un nuovo massimo con un dmi positivo che non conferma quindi comincia oltre al top di qualche giorno fa segnalato dal candlestick adesso anche gli indicatori di momentum cominciano a segnalare la stanchezza di questo trend che poi trend culminato poi nella fase parabolica come abbiamo sempre detto queste fasi paraboliche hanno sempre un po sono sempre pericolose perché non si sa quanto si possono estendere verso l'alto però poi hanno dei ritorni verso il basso che possono essere improvvisi e molto bruschi e profondi quindi massima attenzione prudenza attenzione a inseguire su questi livelli perché siamo molto molto strecciati come si vede dal valore dell'adx che era arrivato addirittura a 58 il decennale tedesco è già da tempo che non corre più dietro al decennale americano si adegua ovviamente nelle fasi di rialzo dei rendimenti americani c'è una correlazione anche di di movimento nei rendimenti europei quindi i rendimenti europei tendono a andare verso l'alto però guardate non siamo oggi non abbiamo fatto neanche il nuovo massimo quindi stiamo veramente distanziandoci parecchio dall'andamento del del decennale americano i nostri rendimenti non ce la fanno a sostenere evidentemente certi livelli guardate l'adx non è riuscito a superare neanche 24 mentre sul decennale americano come abbiamo appena visto siamo andati sopra 50 qui siamo a un soffio dal failure il failure sarebbe un rientro sotto 2 7 che era il vecchio massimo quindi continueremo a seguire nei prossimi giorni le tensioni sui rendimenti abbinate poi ora lo vedremo ad alcune trimestrali abbastanza deludenti e sempre 500 in questo momento segna ribasso dell'un per cento anche se manca un po' più di un'ora la chiusura proprio ieri e avevamo titolato e sempre 500 secondo test delle resistenze sfidando il vento contrario dei rendimenti quindi nonostante i rendimenti salissero guardate le due candele gialle precedenti che sono andate a abbattere sulla resistenza a 4.360 e però diciamo che questo secondo tentativo è fallito perché oggi stiamo venendo giù con un'apertura rispetto alla close di ieri già a gap ribassista e ripeto non abbiamo ancora chiuso però un'ora dalla chiusura stiamo viaggiando sul minimo del range degli ultimi giorni passiamo sul grafico a 30 minuti per vedere meglio ecco l'andamento delle degli ultimi giorni questi sono i vari tentativi di rottura col falso break a rialzo sul 30 minuti della giornata di martedì e ora stiamo venendo nella parte bassa andando a testare la media 200 e le vecchie resistenze a 4.300 in caso di rottura qui andiamo forse anche abbastanza rapidamente al nuovo test di 4.2 quindi continuate a seguire i prossimi giorni ci sono trimestrali importanti in uscita a proposito di trimestrali oggi importante la trimestrale di Morgan Stanley eccola qua meno 7 48 per cento quindi dati deludenti torniamo sul grafico daily questo se vi ricorderete ne avevamo parlato giorni fa guardate questa ampia figura passiamo sul grafico a linea questa ampia figura di distribuzione no che era sostenuta dalla trend line rialzista questo è il ribasso del 2022 la prezzi non rispettavano più non hanno più rispettato per diversi mesi la volatilità stop line hanno oscillato nervosamente attorno alla media 200 e poi finalmente c'è stato finalmente dal punto di vista tecnico non perché ci fosse necessità che uscisse per forza da qualche parte al rialzo e al ribasso però dal punto di vista tecnico si è risolto si risolvono poi queste fasi fasi che possono essere anche parecchio prolungate di distribuzione o riaccumulazione quindi con queste rotazioni si chiamano questi continui ritest dei supporti e resistenze con tanti falsi segnali a proposito di failure eccone qua un altro questo è stato un failure non il superamento di area 92 avvenuto nel mese di gennaio 2023 poi rientrato e 93 non è più stato superato al rialzo quindi questa situazione di debolezza tecnica avevamo segnalata nel video proprio dedicato alle banche banche usa segnali inquietanti ne parlavamo già due settimane fa perché quello che è successo oggi in parte era stato anticipato non so se era erano dati già noti o comunque il mercato in qualche modo se li aspettava perché il break al ribasso è avvenuto appunto già alla fine di settembre questo è un flag di continuazione target di questo movimento andando a proiettare questa leg verso il basso dovrebbe essere area 70 siamo a 74 con una velocità di discesa notevole siamo in assetto coltello che cade quindi attenzione qui non andare a fare l'indovina indovinello di qual è il supporto qual è il minimo del movimento perché sono attività molto pericolose e il settore bancario in generale rimane debole a parte il insomma qualche pullback nei giorni scorsi qua il kb che l'etf sul settore bancario e dopo questa prolungata fase di ribasso iniziata nel mese di agosto è andato a ritestare la vstop e stiamo ricominciando a venire giù le discese sono tutte molto moderate controllate come abbiamo detto nel corso del video di fine settimana scorsa venerdì quindi non c'è panico non c'è non ci sono valori elevati di direzionalità però si continua a scivolare verso il basso abbiamo visto gli indici più ampi tipo il russell che sono a un passo dai minimi del 2022 quindi sono venuti giù in maniera progressiva anche qua non ci sono ancora i segni di quel diciamo di quelle discese profonde senza nessun pullback con volumi molto alti quindi quelli sono i segnali un po di panico che potrebbero essere anche di esaurimento del movimento siamo ancora in zona di paura sul fiera in grid index quindi anche questo indica che non siamo in una zona di estremo per cui diciamo il movimento per il momento continua a rimanere abbastanza controllato dell'S&P 500 abbiamo già parlato guardiamo l'Europa il DAX ovviamente è chiuso alle 17 e 30 molto più lontano dai valori di resistenza dati dalla V-stop l'S&P 500 ha appena finito di testare la V-stop per la seconda volta il DAX non si è neanche avvicinato negli ultimi due giorni e oggi questa candela nera che va a ricoprire i due hammer che avrebbero potuto dare vita a un ulteriore rotazione verso l'alto di questa fase di consolidamento secondo me questa è una fase di consolidamento dopo la rottura della media 200 e dopo la rottura di tutta questa ampia fascia di distribuzione che è durata tanti mesi quindi siamo andati a rivedere dal basso verso l'alto ecco questo era il questo pallino giallo lo avevamo tracciato come target del movimento di pullback e ora stiamo tornando verso la fascia di supporto a in area 15.000 ecco quindi situazione interessante anche per il DAX con IBER saldamente in controllo diciamo ormai dai primi di settembre col DMI negativo che è costantemente superiore al DMI positivo quindi la fase di bassista continua attenzione ai supporti 14.9 sotto di questi è aperta la strada a 14.4 questo giusto per dare il quadro del DAX l'Eurostox anzi lo Stox 600 lo Stox 600 è una situazione tecnica assolutamente analoga quindi con il test della V-Stop media 200 e anche qua stiamo andando verso il test di 4.38 ecco io direi passerei adesso le richieste per il resto non abbiamo a parte loro delle grandi novità tecniche il petrolio diamo giusto un'occhiata rimaniamo sempre all'interno teniamolo d'occhio questo range no avevamo detto ci aspettavamo una battaglia all'interno di questo range di queste due candele di espansione del 4-5 ottobre abbiamo testato la parte alta oggi guardate la parte alta del range siamo venuti giù stiamo chiudendo con una candela tipo shooting comunque non ci sono novità ecco questa è un po' la sostanza verrei alle richieste un amico chiedeva di verizon titolo dal dividendo elevato quotato new york stock exchange fase di ribasso prolungata io direi che qua non ci sono segnali di inversione per il momento ci possono essere certamente è un titolo che si sta muovendo in maniera molto regolare al ribasso con delle leg ribassiste che danno origine a impulsi sugli indicatori in particolare di direzionalità pullback verso la media 200 leg nuova leg ribalsista nuovo impulso di adx altro pullback verso la media 200 molto regolare anzi direi che forse ultimamente il movimento a ribasso è anche accelerato perché i movimenti di recupero non sono più riusciti a raggiungere la media 200 ma siamo andati subito a vedere nuovi minimi quindi non ci sono in questo momento segnali di inversione aprendo un po la scala e andando indietro dobbiamo andare veramente molto indietro per trovare valori così bassi quindi stiamo andando indietro fino addirittura al 2011 quindi attenzione vedremo poi nei prossimi giorni se riuscirà quantomeno a superare la bus stop le prime resistenze quindi in teoria se dovesse qua maturare sta cercando di fare una base nel previsto nel brevissimo se dovesse maturare la possibilità di un di un rally correttivo e il primo target sarebbe area 32 e poi lì si vedrà poste grafico interessante veniamo al listino italiano grafico interessante perché ecco questo è il classico movimento di brecca al ribasso con canela di espansione nera della media 200 test dal basso verso l'alto ne abbiamo visti diversi nei grafici precedenti failure failure che vuol dire che oggi candelone nero che dice che appunto il i vecchi livelli di supporto che erano a 9 8 hanno fatto da resistenza i prezzi sono ripartiti verso il basso questa è una rottura importante che non va presa sotto gamba perché tra l'altro a similitudine di quello che abbiamo visto prima questi livelli di 9 8 erano non solo la media 200 ma anche la trend line rialzista che sosteneva i prezzi addirittura da dal minimo di marzo 2023 quindi target naturale di questo movimento potrebbe essere il riteste di area 9 il quadro tecnico qua cambia se questo candelone di nero dovesse essere annullato annullato che significa i prezzi se ne tornano sopra 9 8 per qualche motivo quindi continueremo a guardarlo generali la dinamica è simile a quella di poste perché comunque tutti i tutti molti dei titoli finanziari hanno avuto questo sell off nei giorni scorsi no però vedete generali non ha fatto ancora danni tecnici cioè il movimento è lo stesso però qua i supporti principali ancora hanno tenuto sono quelli in area 18 e 5 quindi direi amico massima attenzione adesso qua perché potrebbe potremmo andare al test la rottura di 18 e 5 metterebbe anche generali in una situazione di stress tecnico vediamo se riusciamo a tracciare 18 e 5 ecco una situazione di stress tecnico perché come abbiamo visto prima in poste ci sono in ballo adesso non solo le vstop ma anche le trend line oltre che i livelli di supporto grafico di cui abbiamo appena parlato va bene io direi per oggi è tutto abbiamo fatto un'ampia carrellata un po dei vari strumenti lasciate nei commenti segnalazioni in situazioni interessanti così poi le guardiamo assieme stasera ci saranno dopo la chiusura le trimestrali di tesla e netflix quindi ci potrebbe essere ulteriore volatilità un amico segnalava eccolo lo mostriamo un possibile testa e spalle su invidia meno 4 per cento anche tesla meno 4 e 6 quali infatti c'erano prima dei commenti dice qualcuno forse sta già anticipando quello che verrà detto comunque rilasciato più tardi non lo sappiamo però quello invidia stessa cosa invidia gli earning saranno più in là sono nel mese di novembre però comunque oggi un meno 4 e 27 che avvalora la possibilità che qui si stia consolidando questo testa e spalle rialzista invidia dopo il boom ne avevamo parlato qui addirittura nel mese dopo gli earning di maggio dopo la sparata degli anni di maggio avevamo detto di stare molto attenti perché le fasi paraboliche poi dopo portano alla formazione di top complessi quindi in realtà guardate che da maggio a oggi no dopo tutta l'hype della intelligenza artificiale eravamo a 410 e a maggio oggi siamo a 420 quindi in realtà il titolo poi da maggio in poi non ha fatto una particolare performance e tutti quelli che hanno comprato qui questa è la la un po la sostanza che sta dietro le figure di distribuzione ora tutti i long che hanno comprato sull'hype dell'intelligenza artificiale del titolo che deve andare sulla luna che si moltiplicherà all'infinito rischiano in caso di rottura della neckline che passa qui a 408 di trovarsi le posizioni sott'acqua quindi attenzione massima prudenza vediamo questo test di area 400 per invidia e vediamo poi più tardi le trimestrali di tesla e di netflix grazie a tutti per l'attenzione appuntamento a domani buona serata grazie a tutti Grazie a tutti